Ti ho visto entrare in palestra, ma quelli sono tutti dei venduti. Che fai poi? Non combatti più? No, ho chiuso. Monroe mi ha convinto a perdere un incontro e poi non mi ha neanche pagato e mi ha licenziato. Ho ipotecato tutto per andare avanti, ma non guadagnavo e ho già perduto la casa. Adesso sono costretto ad accettare per quattro soldi qualunque lavoro mi offrono. È un vero peccato, eri uno dei migliori. E adesso sono un uomo finito. Tu cerchi Monroe, vero? Sì. Allora siamo in due. Sai dov'è? Magari, ma qui non ci viene più, è diventato un pezzo grosso, sai, droga, donne. Ti ricordi di Susan? Fa spogliare lista? Lei può dirti tutto, vivevano insieme prima che lui la lasciasse. Dove posso trovarla? A casa sua. Grazie dell'aiuto, Paul.